Incontro con la senatrice Lamura presso Palazzo di Città ad Agropoli. Continua spedito l'iter del primo cittadino Adamo Coppola per risolvere la problematica della posidonia spiaggiata. Ho spiegato il percorso intrapreso alla senatrice, dichiara Coppola, e ho ricevuto ampia disponibilità a darci una mano. Un caro saluto a tutti voi. Oggi voglio ringraziare il senatore Lamura che sta qua con noi perché ha raccolto meramente la nostra richiesta di aiuto e di supporto su questo percorso che stiamo facendo insieme per risolvere il problema della posidonia spiaggiata qui in città. Abbiamo discusso ampiamente il problema e abbiamo ricevuto oggi una grande disponibilità da parte sua e un supporto importantissimo e strategico per arrivare alla soluzione del problema. Quindi la ringraziamo veramente per la sua disponibilità e continueremo a lavorare per arrivare al risultato di liberare le nostre spiagge. Intanto saluto i cittadini di Agropoli. Oggi è stato un bel momento di confronto con il sindaco, un momento tra l'altro propedeutico a quella che è l'organizzazione delle spiagge, e quindi di questo turismo balneare che tra l'altro è sotto l'insegna della bandiera blu per cui un turismo sostenibile ed è per questo motivo che ci siamo incontrate, ovvero per parlare della posidonia spiaggiata che va gestita al meglio proprio per tutelare la risorsa anche a mare, quindi la prateria della posidonia a mare. Io sono anche relatrice della legge salvamare che è stata incardinata proprio la settimana scorsa nella Commissione Ambiente del Senato e sulla base del confronto avuto con il sindaco procederemo insieme anche per accelerare i tempi ma soprattutto per trovare la migliore soluzione insieme al Ministero dell'Ambiente e quindi con gli enti preposti al controllo e alla gestione del territorio affinché questi cumuli antropici, quindi questi cumuli che sono creati negli anni possano essere eliminati per restituire la spiaggia ai vostri cittadini e anche ai turisti di Agropoli. Grazie a tutti!